Miei cari, a mente serena e con calma vi invio il mio ultimo saluto. Non piangere, mamma cara, dal cielo ti sarò ugualmente vicino e tu, caro papà, consola mamma, Iuccia, Giusto e Bruno e aiuta tutti ad essere forti in questo doloroso frangente. Mandate anche il mio saluto a tutti i parenti della mia Maria di Roma, di cui troverete l'indirizzo nella scrivania e a tutti gli amici. Fatevi coraggio e pregate per me, lasciate che il destino compie il suo corso. Vi chiedo perdono di quanto vi ho fatto. Ancora una volta addio e coraggio. Vi bacio tutti. Vostro affezionatissimo Lidio Valle. Grazie a tutti.